buongiorno a tutti siamo entusiasti di presentarvi questo ampio luminoso e accogliente appartamento di due vani situato in una posizione ideale a bari nella via martiri d'orzanto questa soluzione offre una vasta gamma di servizi nelle immediate vicinanze l'appartamento si compone dei seguenti ambienti un accogliente ingresso che vi dà il benvenuto in questa casa un corridoio ben distribuito che collega tutte le stanze in modo ottimale una spaziosa camera da letto un luminoso soggiorno pranzo con accesso sul balcone perfetto per condividere momenti speciali con la famiglia e gli amici l'appartamento è dotato di un sistema di climatizzazione per garantire il massimo comfort in qualsiasi stagione completa la proprietà un comodo cucino e un ampio bagno non perdete l'opportunità di acquistare questo confortevole appartamento a bari alla prossima ciao